La provincia di Pesaro e Urbino si prepara ad osservare il calendario che dal 24 al 27 dicembre e poi dal 31 fino al prossimo 3 gennaio trasformerà anche il nostro territorio in zona rossa. Torneranno quindi ad essere consentiti soltanto gli spostamenti utili per motivi di lavoro, salute o necessità, insieme alla visita di massimo due persone ad amici o parenti all'interno delle abitazioni. A rimanere aperte nei festivi e prefestivi saranno soltanto le attività considerate essenziali, tra cui supermercati, negozi di alimentari, farmacie, tabaccherie ed icole. Nelle giornate in cui sarà vigente la zona arancione, dal 28 al 30 dicembre insieme al 4 gennaio, sarà consentito lo spostamento all'interno del proprio comune, oppure dai piccoli centri abitati fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri, senza però poter raggiungere i capoluoghi di provincia. In zona arancione anche i negozi avranno la possibilità di alzare la sala cinesca fino alle ore 21, mentre per tutto il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 6 gennaio, rimarranno obbligate le chiusure per bar e ristoranti, i quali si trovano ora a fare i conti con una nuova riorganizzazione dei servizi messi in campo per le feste, incentrando la propria attività sull'asporto. Questa nuova disposizione rompe un po' gli schemi di quello che si era prefissato più o meno tutti i ristoranti, perché erano già tutti pronti per lavorare a Natale, avevano già tutte le prenotazioni e l'unica cosa che ci rimane da fare come ultima spiaggia è quello di fare l'asporto. Per fortuna l'asporto, anche se siamo in zona arancione o rossa, è consentito, quindi la gente si può spostare per venire a prendere il cibo se vuole ordinare qualcosa. È andata un po' meglio dell'ultima volta perché ci hanno chiuso dal sabato per la domenica con tutti i prontati e in questo caso ci hanno dato un po' di previso, diciamo un in più, qualche giorno in più. Qui ci sono delle aziende che sono veramente in ginocchio e quindi speriamo che dopo questo, diciamo, di PCM possa veramente cambiare qualcosa perché se no le 5.000 persone in caso integrazione e si presume più o meno il 20% delle aziende saranno costrette veramente a chiudere. Nei giorni in cui andremo a chiudere, dal 24 in poi, saremo sempre qui, diciamo, nei nostri locali per comunque riuscire a stare vicino ai nostri clienti e continuare a dare il servizio, almeno con il delivery. Natale era pieno praticamente, sia la vigilia che il giorno di Natale e quindi stiamo comunicando a tutti i nostri clienti che non è possibile pranzare al nostro anno in quei giorni. Per Capodanno avevo messo in piedi sia per il 31 che per l'uno due pranzi che, insomma, simbolicamente festeggiavano questa fine e questo inizio, ma ahimè, dai, le normative sono queste e quindi anche lì abbiamo dovuto disdire le pronotazioni. Io, come vedete alle mie spalle, ho messo un cartello che sembra ironico ma non è ironico perché game over vuol dire che il gioco è finito. Purtroppo non è mia abitudine lamentarmi, però questa cosa del giallo, russo, arancio, ci ha un po' a tutta la categoria, diciamo, dai ristoranti, bar, a tutto il settore ureca, ci ha un po' sfiancato. Ho fatto questa scelta proprio di chiudere e subito la mattina dopo il DPCM che purtroppo è arrivato un'ora e tre quarti in ritardo, anche lì senza nessuna polemica, però la mattina subito dopo ho telefonato tutti i prenotati che comunque già si immaginavano e io non facendo l'asporto ci rivediamo con gli auguri che farò adesso questi giorni telefonicamente. Natale e Pasqua sono le due, diciamo, cardini della ristorazione. Natale, questi 20 giorni, era il salva condotto per l'inverno. A questo punto la chiudiamo qua, ripartiremo probabilmente a metà gennaio. Speriamo che serva, ecco. Grazie. Grazie.